buongiorno a paolo marcucci grazie per essere con noi in questa intervista buongiorno buongiorno e lei dottore questa abbastanza bene per sfortuna è una domanda di rito in questo periodo diventa un tema un tema di riferimento conta ci racconta un po la sua la sua storia perché oggi parleremo della sua azienda attuale tra poco introdurremo il tema poi importante l'intervista però lei ha una una storia imprenditoriale molto variegata che ci può aiutare anche a capire la crescita di questo di questo paese dal punto di vista dell'impresa il ringrazio troppo importante comunque io sono figlio di un imprenditore vengo da una famiglia di imprenditori il mio babbo guelfo siamo con andrea e con marialina fratello e sorelle e il e mi sono impegnato fin dalla da quando eravamo ragazzi il nostro la nostra famiglia ci ha insegnato ad essere occupati a essere coinvolti nell'impresa in un ruolo chiaramente sempre crescente partendo da molto basso il crescendo progressivamente il mi sono occupato di televisione all'inizio sono andato dopo l'università che ho fatto a pisa sono andato in inghilterra lavorato cinque anni da londra il occupandomi di una televisione che trasmetteva nell'etere attraverso il satellite in tutta europa poi l'abbiamo mi sono occupato di venderla il mi sono occupato della ristrutturazione della televisione in italia poi mi sono ho incominciato a lavorare più vicino a mio padre le prime le prime esperienze l'ho fatta insieme a mia sorella e poi invece lavorando insieme a mio padre nel farmaceutico ho incominciato a lavorare sulla sulla ristrutturazione sull'acquisizione poi ristrutturazione di sclavo e del gruppo farmaceutico poi mi sono occupato di telefonia per due o tre anni il perché ho lanciato nel periodo della del periodo del del di internet all'inizio degli anni duemila una piccola società di telefonia e di internet e per poi concentrarmi eh definitivamente nel nel settore della plasma derivati e della lei ha fatto ha fatto una veloce disamina in tutto il suo percorso ma ha omesso un po' di nomi di aziende che poi rappresentano anche dei dei momenti storici importanti no lei parlava di televisione una delle sue aziende televisive ha accompagnato i giorni di moltissimi di noi perché eh ci raccontava in maniera nuova la musica giusto 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 quella è un'iniziativa che il che io quale io ho partecipato non ho originato il i meriti sono di eh di mia sorella in particolare di mio padre ma ehm si tratta di video music la società che appunto era dedicata ai ai giorni adulti la seguivamo tutti i video music da ragazzi eh no ci fa piacere ci fa piacere il il è stata lanciata il giorno del mio compleanno però io avevo ero troppo piccolo per essere per partecipare attivamente in quel giorno all'iniziativa io ho gestito una parte la parte la seconda parte di vita nel insieme a mia sorella l'abbiamo resa più moderna con l'esperienza che ho fatto a Super Channel in Inghilterra che era l'altra televisione di cui eravamo proprietario di cui mi sono occupato e il e poi l'abbiamo venduta e quindi sì era video music è stata una bella una bella impresa e una bella avventura e una grande scuola per me. Diciamo che è una caratterizzazione del suo percorso di quello della sua famiglia di essere stati quasi sempre dei pionieri nelle nelle imprese che avete in qualche modo sviluppato e strutturato video music poi il mondo il mondo della telefonia nel momento in cui nasceva proprio l'adozione sempre più forte di internet e oggi con suo padre prima e lei adesso il mondo della della medicina in un settore quello dell'uso del plasma che è particolarissimo no marcucci sì ovviamente io il io sono mi connoto più come un un gestore uno sviluppatore il l'innovatore e gli innovatori sono stati in particolare mia sorella e mio padre perché hanno avevano le eh l'ecletticità per a per investire il coraggio per investire in tante cose diverse io io ho avuto la fortuna di avere loro alle spalle e di poter portare la mia conoscenza come eh la mia capacità come gestore e come sviluppatore ho una visione mi riconosco una visione strategica il il e quindi e poi abbiamo fatto delle scelte importanti quella del plasma eh è stata una scelta difficile perché alla fine degli anni novanta avevamo interesse nel mondo farmaceutico che non era ehm che era non era univoco nel plasma lavoravamo con i vaccini in particolare i vaccini anti influenzali lavoravamo con farmaci etici il noi abbiamo fatto un un'analisi e e poi diciamo abbiamo eh intravisto l'opportunità di diventare leader eh prima in Italia il eh consolidare la nostra posizione e poi nel in Europa e nel mondo il nel settore del plasma e questo eh diciamo è stata una visione che ha pagato eh a lungo termine eh alla quale io ho partecipato concretamente attivamente. Accordiamo due numeri perché lei con Kedrion che è il nome della della sua azienda eh ha detto siamo i primi in Italia sembra un gioco da ragazzi essere primi in Italia ma siete tra i primissimi anche in Europa e nel mondo ecco ci dice com'è posizionata la sua azienda in termini di numeri e quello quello che state facendo? Allora il i in termini di posizione a livello mondiale nel nel ranking mondiale delle aziende eh delle aziende plasmatiche eh Kedrion copre la posizione del numero cinque. È una una posizione la quale abbiamo che abbiamo raggiunto con facendo un lungo percorso investendo molto eh prima in Italia e poi eh andando all'estero eh le prime tre posizioni direi anche forse le prime quattro posizioni sono eh detenute da eh eh colossi mondiali che sono nel settore da sempre e e che hanno o praticamente creato o o o una una loro posizione di mercato molto molto forte eh in particolare negli Stati Uniti eh in Europa e in alcuni paesi di origine come l'Australia eh che è la il paese di origine della prima azienda al mondo per cui il per cui questa è la nostra posizione nel ranking mondiale a livello europeo eh a livello europeo più o meno il ranking è è lo stesso il perché eh a livello europeo ci sono più aziende quindi la concorrenza eh è più serrata per eh però sono aziende eh di proprietà nazionale o focalizzate anche sulla propria nazione perché nascono da un progetto di ehm di lungimirante di autosufficienza del eh di autosufficienza del settore del plasma eh per garantire al 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 paese una risorsa essenziale eh che che è il la gestione del plasma e i prodotti che ne derivano le proteine che che ne derivano questo poi ci torneremo successivamente se vuole eh uno eh che non è del settore comprende quello che può significare un'azienda farmaceutica che produce eh farmaci per uso vario ecco col plasma invece che cosa si fa? Allora col plasma si fanno tante cose il plasma è la parte liquida del sangue umano e contiene eh una quantità innumerevole eh di eh proteine che ehm ancora un numero non è stato stabilito di queste centinaia e centinaia di proteine noi oggi ne eh come industria globale riusciamo a utilizzarne a darne un un senso preciso a una ventina eh una ventina in totale di proteine che vengono dal plasma. Le principali proteine sono le immunoglobuline che sono i mh gli anticorpi che vengono eh prodotti dal dal corpo umano per proteggerci dai eh patogeni eh dagli agenti patogeni dai virus dai batteri eh che aggrediscono il eh che possono aggredire il il sistema umano il corpo umano per cui il sono sono proteine importanti eh è il prodotto principale eh abbiamo sia le proteine eh le le gli anticorpi eh specifici che gli 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 anticorpi che hanno un ampio spettro il gli anticorpi che hanno un antio spettro sono il sono le gamma guoline endovenose tipicamente endovenose il che vengono fatte eh per vengono eh fatte per ehm eh replenish per eh rimpiazzare i la la produzione biologica che non c'è quindi il le 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 terapie sono dedicate ai ehm eh alla ehm carenza primaria alla deficienza ehm mi scusi eh ma l'immunodeficienza primaria l'immunodeficienza primaria il poi con lo svilupparsi delle eh grosse terapie anticancro il oncologiche dove il corpo è aggredito il eh dal eh dalla chemioterapia il si creano delle situazioni in cui ci sono delle deficienze secondarie quindi le primarie sono quelle che sono genetiche per cui un bambino nasce senza la capacità di generare anticorpi come lei si può immaginare il 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 bambino quell'essere il è destinato a una vita eh distenti eh perché qualitativamente molto bassa e di eh tempo molto breve perché eh nel mondo di oggi ma anche nel mondo antico il il eh siamo esposti a virus e batteri che sono letali quindi uno senza difese eh eh vive po' vive breve mentre invece con le terapie delle delle immunoglobuline si è portata la la qualità della vita a uno standard normale e a la durata della vita stessa a uno standard equivalente alla persona che nasce con la capacità di generare anticorpi. Le immunodeficienti secondarie sono quelle causate appunto come dicevo dalle eh dalle cure o o dalle alcune grandi malattie dove eh per rendere efficace la cura si abbassano artificiosamente le le difese immunitarie e quindi le difese immunitarie vanno ricreate per proteggere il paziente e questa è una eh terapia è un'indicazione che è sempre più in crescita. E poi per le immunoglobuline ci sono le indicazioni neurologiche che sono tutta una serie di malattie del quali non è chiarissimo il 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 l'azione terapeuta il meccanismo di di azione ma è eh palese eh l'efficacia l'efficacia terapeutica. Questo è il prodotto più importante. Poi abbiamo l'albumina che è un eh il prodotto storico, il primo prodotto che è stato purificato dal plasma. Il il è un prodotto che viene usato originariamente viene usato nelle emergenze cioè il per eh come plasma espander per eh garantire la distribuzione del dell'ossigeno nel corpo umano nel caso di un ferito. Non è un caso che il non è un caso che la eh la scoperta, la purificazione dell'albumina sia accaduta eh e sia avvenuta nel periodo della seconda guerra mondiale il il e l'inventore del metodo di purificazione sia un signore che era il dottor Cohen che il con che ehm che eh era un graduato nell'esercito americano e che eh era stato incaricato di trovare il modo di eh avere un prodotto che potesse aiutare i feriti sul campo di battaglia il più vicino possibile al campo di battaglia. Poi questa ha prodotto questa proteina viene utilizzata in eh una serie di eh malattie diverse o sempre terapie eh d'emergenza come il le ustioni oppure in terapie invece il dedicate alla alla fegato eh la scite e così via. Quindi è un prodotto eh molto molto importante. E e poi ci sono i fattori della coagulazione che sono i prodotti che vengono utilizzati principalmente per il eh per l'emofilia per per l'emofilia e consideri che oggi eh nel settore dell'emofilia ci sono o dei nuovi prodotti che non sono più plasmatici e quindi ci sono anche prodotti non plasmatici ma per il i trent'anni passati il l'emofilico dipendeva dall'accesso a un prodotto plasmatico che si chiama fattore ottavo o fattore nono oppure altri fattori il che eh hanno permesso di eh rendere la vita la qualità della vita dell'emofilico una qualità della vita normale quindi equivalente a quella di una pazione normale che è nata senza quel difetto cioè il difetto è che non genera questo fattore ottavo e quindi il fattore ottavo o il fattore nono al secondo il sono quelli che eh permettono di prevenire il eh il sanguinamento quindi eh non avendo questo questo questa proteina il il paziente ehm il paziente eh è incline a sanguinare ad ogni ad ogni piccolo incidente diventa un grave incidente perché appunto continua a sanguinare nessuno e e niente di eh eh connaturata a lui riesce a fermare la il sanguinamento quindi e così via quindi questo per dire ora scusi mi sono dilungato però il questo per dire che il come eh sottolineava lei il nostro settore è un settore molto particolare che ha un diretto impatto eh eh efficace e diretto impatto sulla qualità della vita e sulla durata della vita del paziente e quindi è un bene che noi riteniamo sia considerato e vediamo che in molti paesi è considerato strategico sia l'industria che il il sistema di donazione. Come si diventa il l'interprete principale in un settore così importante nel nel nostro paese ed uno degli interpreti principali al mondo? Ehm beh allora intanto ci vuole una famiglia che abbia pazienza il eh perché eh richiede molto impegno eh richiede molta dedizione e e poi eh e poi io ho la fortuna di esserci nato in qualche maniera anche se le mie esperienze imprenditoriali eh hanno toccato anche altri campi eh diciamo il il noi siamo sempre stati investiti nel settore farmaceutico e quindi il e in particolare nel settore biologico quindi ho sempre notato una particolare attenzione un particolare interesse in questo eh in questo settore perché sono sempre stato ammirato dal fatto che eh eh di di quale fosse eh e come potesse essere eh così eh e così importante l'impatto che si portava eh sul paziente il quindi il contributo a a a portare e a a migliorare o a salvare la vita di un paziente quindi questo è eh una cosa che mi ha affascinato quindi ci vuole passione eh dedizione e poi ci vuole un po' di preparazione anche eh io sono molto grato al ad aver avuto la possibilità di eh studiare eh e di fare delle università di un'università quella di Pisa in questo caso il che mi ha preparato e credo che fin dal primo giorno in cui sono uscito dall'università e mi sono trovato nel mondo del lavoro in particolare mi trovavo all'estero ho capito che avevo una preparazione di base di base il molto ampia comparata agli americani meno profonda ma molto ampia e questo mi permetteva di eh di essere più efficace in in su un più ampio spettro di eh problemi o di opportunità che mi che che avrei affrontato di lì in poi. Ecco la forza della famiglia in Italia ci sono tante imprese a stampo familiare di qualunque dimensione dalle piccolissime imprese che poi lavorano insieme ad altre altre più importanti alle imprese più importanti di questo paese che sono costruite sulla famiglia io addirittura ho visto una classifica a livello mondiale dove le imprese storiche a conduzione della stessa famiglia nelle prime dieci ne hanno addirittura cinque italiane è una cosa che è una cosa straordinaria la prima ad esempio sono quelli che producono le campane in tutto il mondo da Agnone la famiglia Marinelli che probabilmente sono dell'anno mille addirittura quindi sono qualche anno che continuano a seguire con gli stessi elementi della famiglia poi parliamo di passaggio generazionale eh per cui facciamo facciamo veramente Marcucci delle cose straordinarie in questo paese dicevamo la famiglia sempre al centro però poi piano piano eh le le imprese italiane anche familiari sono diventate dei piccoli bonsai straordinari arrivano imprese invece con dimensioni completamente diverse e fanno man bassa di di queste di queste imprese tanto tanto speciali c'è una considerazione da fare che l'impresa italiana si è quotata poco nel senso che noi abbiamo una quantità di aziende rispetto alla capacità delle delle aziende italiane quotate in borsa che è molto bassa rispetto a qualunque altro paese della nostra dimensione diciamo che fate un po' i consigli di amministrazione a casa in salotto la domenica mattina eh però eh bisognava bisognava anche fare un salto di qualità dal punto di vista della finanza abbiamo visto negli anni scorsi tutto quello che è successo gli impatti che hanno avuto le banche eh sul sul paese e naturalmente anche sul credito alle imprese voi avete fatto e state facendo una scelta di campo molto forte anche in questo settore nonostante siate di una dimensione importante state aprendo ad un ad un mondo di finanza straordinaria che per altri è finanza ordinaria che in Italia non viene usato e praticato molto ci racconta quello che state facendo in questo periodo? Sì una battuta il i marinelli hanno trovato un filone di mercato che è duraturo e sono stati lungimiranti nel mille devo dire guardi non conosco non ricordo il nome dell'orafo ma c'è un orafo di Firenze che addirittura i suoi pezzi più pregiati sono depositati al British Museum di Londra per cui ci sono delle delle oppure c'è Barone Toso a Murano ci sono veramente delle eccellenze in questo paese straordinarie che che si perpetuano da oltre mille anni quindi hanno superato le guerre le pandemie qualunque cosa potrebbero insegnarci a superare questo momento ma anche lei ce lo può insegnare Marcucci grazie grazie no no allora il sì no la noi eh diciamo io ho partecipato ai consigli eh consigli di amministrazione a cui si riferisce lei da quando insieme a mia fratella e a mia sorella il eh da quando ero piccolino molto molto piccolino quando andava alle elementari perché effettivamente il mio babbo e mio zio e e il socio che avevano si riunivano molto spesso a casa il la domenica oppure un altro giorno e il parlavano di lavoro e ci lasciavano io non c'ero quindi ho soltanto intuito che potesse essere lei lei fa riferimento a una a una a una a una tradizione italiana diciamo a una tradizione italiana a quale non siamo sfuggiti diciamo che noi a un certo punto abbiamo preso un intrapreso una strada un pochino diversa e questo a cui fa riferimento anche lei eh credo che eh l'eccellenza italiana eh anche quella familiare ehm eh si si vede nella duratura nella durata dell'impresa e di quanto resistono sul mercato quindi i mille anni in cui faceva riferimento lei o forse di più o le centinaia di anni il e queste imprese possono mantenere la loro dimensione si possono sviluppare eccetera ma poi c'è un e comunque eh rimangono un'eccellenza perché eh rendono sempre più sofisticata la loro tecnologia il loro know-how e così via il poi ci sono le altre aziende alcune aziende familiari eh che sono esplose per importanza il e quindi diventano leader mondiali no? Il e in Italia ne abbiamo eh degli esempi nei Ferrero nella Luzottica nella eh in altre nella Fiat in altre grandi imprese il che comunque rimangono eh rimangono con una matrice eh familiare alcune di più Ferrero è totalmente familiare e così e via. Noi abbiamo fatto però molte quelle nel mezzo il rischiano una una mancanza di crescita in qualche maniera a un certo punto il ci si pone la questione di cresco e quindi eh rinuncio a qualcosa oppure il oppure rimango nella mia dimensione e non rinuncio a nessuna azione eh e a nessuna percentuale di proprietà. Noi abbiamo fatto una scelta ehm molto tempo fa eh di eh ci siamo e l'abbiamo presa intorno a un tavolino l'abbiamo presa in un in una riunione di famiglia abbiamo detto noi cosa vogliamo fare? Noi vogliamo privilegiare la nostra proprietà dell'azienda o vogliamo privilegiare lo sviluppo dell'azienda? Noi abbiamo deciso di sviluppare di privilegiare lo sviluppo dell'azienda quindi il il valore. Facendo facendo questo tutela anche la proprietà per certi versi perché se lei conduce bene la sua azienda e arriva un socio che sia un fondo di private equity che sia eh una una quotazione in borsa quindi con una quantità di soci più importanti difficilmente entrano in società che qualcuno con qualcuno che sta facendo male quindi normalmente si resta a capo anche dell'azienda nella stragrande maggioranza di casa. E questo è quello che è successo a noi fino a noi fino ad oggi il noi abbiamo avuto il siamo stati accompagnati abbiamo fatto la scelta per privilegiare la crescita dell'azienda quindi abbiamo deciso alla fine degli anni novanta all'inizio degli anni duemila un percorso virtuoso di crescita eh e di ehm eh di aumento del nostro know-how tecnologico e qualitativo l'abbiamo cominciato ad implementare e l'ottica era quella di diventare un player a livello internazionale a quel tempo noi avevamo il novanta per cento del fatturato in Italia il oggi abbiamo l'ottanta e rotte per cento di fatto l'ottanta per cento del del fatturato eh eh all'estero e abbiamo intrapreso quel percorso abbiamo detto che avremmo ehm dovuto avere del know-how diverso quindi abbiamo all'inizio coinvolto un un piccolo private equity di una grande banca che era eh San Paolo che poi è diventata intesa il il e ci hanno accompagnato per un pezzettino di per tre anni o per quattro anni il il trasferendoci tutte quelle che erano le eh le 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 i know-how o o aiutandoci a coltivare a sviluppare il know-how gestionale di un'azienda più manageriale meno incentrata sulla famiglia meno incentrata su quello che sa sa la famiglia e basta. Il e quindi questo è stato un primo percorso. Poi abbiamo avuto l'opportunità di comprare un'azienda all'estero e quindi il compito di quel private equity, la missione di quel private equity si era eh si era esaurita e quindi abbiamo allargato il il abbiamo eh voluto comprare un'azienda in in Ungheria il eh abbiamo ci siamo finanziati e coinvolgendo un altro private equity che ha fatto in parte un aumento di capitale in parte ha comprato delle quote dalla dalla famiglia ma ah che ci ha lasciato comunque il sempre in maggioranza e poi così via cioè abbiamo poi avuto un un'ulteriore eh occasione di allargare ehm la capitale a a a a un ulteriore private equity in questo caso era un private equity che era di origine cdp cassa depositi e prestiti perché abbiamo avuto l'opportunità di allargarci quindi di prendere acquisire degli asset negli Stati Uniti e il e ci ha fatto molto piacere eh vedere che eh tra coloro che avrebbero desiderato partecipare e aiutarci eh abbiamo potevamo eh eh contare su cassa depositi e prestiti che poi abbiamo finito per scegliere come il nostro partner di lungo termine il eh attraverso a quel tempo era il fondo strategico italiano eh che ehm ci ha aiutato nel nel nell'investimento nell'acquisizione di asset e nell'integrazione degli asset in eh in Kedrion eh asset negli Stati Uniti in Kedrion che era in in Europa quindi diciamo che noi eh abbiamo avuto il abbiamo avuto la visione eh di eh non aver paura ehm di avere il coraggio di condividere la proprietà condividere il condividere il rischio anche perché c'è anche il la condivisione del rischio il con eh un capitale eh il più possibile paziente ma che comunque aveva dei tempi di scadenza quindi mh questo ci permetteva da un lato di eh misurare eh di avere la condivisione del rischio e di fare delle cose più importanti e più grandi di quelle che avremmo potuto fare da sola ma poi ci ha dato anche l'opportunità di misurare la nostra crescita e il nostro successo perché eh eh ciclicamente questi fondi il eh si pongono il tema di uscire e quindi eh ci misurano la creazione di valore e quindi è stata una un'esperienza virtuosa quella che abbiamo perseguito. Quali sono gli obiettivi che avete in questo momento? Perché lei ci ha raccontato l'ultima parte anche della storia di Kedrion no? Con le acquisizioni che avete fatto e una crescita che è stata esponenziale. Oltre agli obiettivi quanto è difficile vivere in questo contesto di mercato così complicato da due anni di pandemia, dalla guerra in corso, da un rialzo dei costi energetici che ormai comincia a pesare anche visto i dati della bilancia commerciale italiana che sono passati nell'ultimo mese da settanta miliardi a dieci miliardi proprio per la per lo sbilanciamento del costo del costo dell'energia non perché non funzioni la bilancia commerciale italiana però è una condizione che che sta mettendo in discussione tante delle certezze che molti imprenditori soprattutto oltre che politici avevano prima. Ecco un imprenditore come si misura con un momento come questo? Eh guardi eh devo dire che questo lei mi ha fatto due domande quali sono gli obiettivi? Cominciamo dalla seconda poi andiamo sugli obiettivi perché se lei mi risponde alla seconda dicendomi che si può superare questo momento poi gli obiettivi diventano una consecucia del discorso. No vabbè il il allora rispondo alla seconda guardi il il periodo della pandemia è stato un periodo difficilissimo eh molti guardano all'industria farmaceutica come un'industria che ha ehm aveva una che avrebbe avuto una malattia in più da 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 curare quindi ehm eh quindi una grande opportunità eh una grande opportunità ora al di là del al di là del disastro a livello mondiale nella realtà il per alcune aziende è stato sicuramente un un'opportunità e è stata una una opportunità secondo me anche per l'umanità perché abbiamo fatto abbiamo raggiunto dei traguardi eh di tecnologia di sviluppo di ricerca che è eh impensabili fino alla pandemia fino a che non l'abbiamo visti realizzare nessuno di noi avrebbe creduto a quello che abbiamo abbiamo vissuto quindi questo è un po' di fare al muro in qualche volta genera delle delle situazioni di sviluppo come ci sta dicendo molto importante. Indubbiamente questo è la è quello che abbiamo vissuto dentro a quello che abbiamo vissuto eh nella pandemia. Il nel il nostro settore è stato un settore che eh purtroppo è stato penalizzato pesantemente cioè la il l'impresa ehm eh del plasma è stata un'impresa che è stata eh purtroppo colpita eh direttamente dalla pandemia. Perché? Perché noi raccogliamo plasma. Noi dipendiamo dalla raccolta del plasma e la raccolta del plasma dipende dalle persone e la della eh eh e le persone eh quando le persone sono per un motivo o per l'altro impossibilitate o non incentivate o non inclinie a muoversi da casa e andare a un centro di raccolta plasma il questo o crea un eh un problema. Noi abbiamo avuto nei due anni di eh nei due anni di eh nei due anni di pandemia più pesanti. La pandemia non è ancora finita il ma ehm nei due anni nei primi due anni abbiamo avuto dei picchi di raccolta negativi del 40 per cento rispetto al duemiladiciannove e questo ha ha creato una serie di eh conseguenze eh negative. Chiaramente una sottoutilizzazione degli impianti e chiaramente il un incremento dei costi di raccolta il e ehm diciamo una carenza o una minore disponibilità di prodotto finito eh mitigata ehm eh mitigata solo in parte solo per un per una per una piccola parte dalla diminuzione del eh dell'utilizzo del prodotto o perché eh i gli ospedali erano sostanzialmente chiusi ad altre terapie se non il covid e quindi diciamo quella è stata una piccola eh diminuzione di eh di utilizzo ma per il resto il 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 mondo è andato in carenza di plasma e quindi in carenza di prodotto finito e quindi purtroppo noi non abbiamo potuto curare tutte le persone che normalmente eh eravamo in grado di curare e in un settore dove il mercato eh in maniera organica cresce del cinque sette per cento anno su anno lei eh si rende conto che eh in due anni noi abbiamo abbiamo non eh siamo non cresciuti anzi siamo diminuiti il come numero di pazienti che e come numero di prodotti che abbiamo messo sul mercato reso disponibile per i pazienti quindi per noi è stato un impatto eh molto pesante poi eh è arrivata la guerra e è arrivato il arrivata la guerra ma comunque già la turbolenza c'era precedentemente quindi abbiamo avuto una abbiamo subito un eh incremento dei costi dell'energia eh estremamente significativo noi siamo un'industria che comunque consuma molta energia noi consumiamo eh consumiamo energia per eh perché lavoriamo ventiquattro ore su ventiquattro perché i nostri eh reparti devono essere refrigerati costantemente eh perché il nostro la nostra materia prima e parlo di milioni e milioni di litri eh devono essere conservati a meno trenta e quindi il a meno trenta ce li conserviamo solo o con un grande o impiego di energia quindi questo per noi è stato un momento la pandemia è stato un momento difficile ehm eh voglio tornare su due temi due due punti uno eh è la carenza di plasma la carenza di plasma ehm eh è stata maggiormente sentita in quei paesi in cui la 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 in cui la la raccolta non è eh sufficiente per il fabbisogno locale ehm eh è stata minore in quei paesi in cui la raccolta locale eh eh riesce a soddisfare il fabbisogno locale. Ecco le posso chiedere un un numero un riferimento perché magari le persone non si rendono conto di quanto sia necessario raccogliere sangue anche lo diciamo anche per tutti tutti quelli che di buona volontà poi si recano nei centri nei centri di raccolta quasi sistematicamente perché ci sono tante persone che lo fanno proprio come come un'opera un'opera buona costante no? Quanta necessità in un paese come il nostro? Allora la 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 necessità di plasma in un paese come il nostro varia tra un milione e tre e un milione e mezzo di litri all'anno e noi in Italia che siamo in Europa un paese virtuoso quindi il il positivo eh ne raccogliamo circa ottocentomila tra ottocento e ottocentotrentamila litri. Il quindi. Quindi. Quindi mancano ancora cinquecento. Mi mancano ancora cinquecentomila. Mi mancano ancora cinquecentomila. È una persona che lo fa sistematicamente quanto riesce a donare in un anno? Beh questo dipende dalle normative locali e dalla propensione perché negli Stati Uniti e ora questo qua è un argomento eh su cui tornerò il negli Stati Uniti si può donare un numero due volte alla settimana quindi il il una frequenza bella lunga che è una frequenza importante in Italia si può si può donare molto meno frequentemente il molto meno frequentemente la donazione in Italia eh si aggira la donazione media per eh donatore è di una volta una volta punto tre all'anno per cui diciamo il donatore italiano il riesce a dare il riesce a dare in plasmaferesi che è diciamo il il la donazione pura di plasma il riesce a dare eh poco meno di un litro all'anno per donatore poi eh la donazione in Italia è caratterizzata dall'esistenza della eh della donazione di sangue quindi poi il sangue viene separato quella una donazione prima di sangue e poi dopo diventa si trasforma in una donazione di plasma comunque diciamo il il donatore comparabile alla agli altri paesi europei e e agli Stati Uniti in termini di ehm in termini di donazione di plasma il dona poco meno di un litro all'anno in Italia negli Stati Uniti chiaramente con le frequenze che le dicevo eh ne dona qualche qualche decina di qualche decina di litri eh all'anno eh all'anno c'è una via di mezzo l'Europa permette in alcuni paesi europei sono permesse trentacinque meno di una donazione alla alla settimana eh un meno di una donazione alla settimana meno di una donazione alla settimana il e quindi però il problema è che la donazione in Europa con questa pandemia ci siamo ci siamo accorti che il ci siamo accorti che l'Europa è eh non è autosufficiente e quindi importa dagli Stati Uniti il resto del mondo è totalmente eh non organizzato disorganizzato sulla raccolta del plasma quindi noi siamo eh ci sono alcuni paesi dell'Occidente incluso la Cina che raccolgono hanno un sistema il che eh eh li permette di eh di raccogliere plasma e di metterlo a disposizione dell'industria poi c'è un paese unico al mondo praticamente che è gli Stati che sono gli Stati Uniti che raccoglie plasma per tutto il mondo solo negli Stati Uniti perché hanno un sistema di eh remunerazione eh compatibile con eh la normativa di eh raccolta plasma che raccoglie plasma per tutto il mondo e quindi che lo esporta ma che lo che questa capacità lo rende autosufficiente quindi gli Stati Uniti non hanno avuto una significativa una carenza sensibile di plasma o di plasma derivati eh eh durante la pandemia perché perché loro raccolgono il loro plasma e quindi necessariamente il il loro plasma garantisce i loro fabbisogni e poi questi e questi questo prodotto viene esportato ad integrazione dei fabbisogni delle europee europei cinesi o del resto del mondo e poi a a sostituzione totale delle carenze della della dei paesi che non raccolgono eh che sono praticamente tutti i paesi non occidentali eh non occidentali e non sviluppati non raccolgono poco o pochissimo niente e quindi dipendono dagli Stati Uniti e durante la carenza di pandemica e chiaramente loro hanno sofferto di più perché oltre a non raccogliere plasma proprio quindi non avere la capacità di sviluppare plasma o di eh produrre plasma derivati avevano anche una carenza eh economica più pesante della nostra quindi non si sono potuti permettere eh l'acquisto sul mercato internazionale a prezzi crescenti di prodotti che il si contendeva l'Europa eh e i paesi eh più sviluppati. Come cambierà il settore Marcucci? Come sta cambiando anche la luce di tutto quello che stiamo vivendo perché c'è una profonda trasformazione del mondo, c'è una profonda trasformazione della dell'economia, delle imprese e del modo di proporsi sul mercato? Allora eh come cambierà il mondo? Il nostro mondo è il diciamo nel periodo pandemico noi abbiamo deciso che eh eravamo troppo piccoli e quindi avremmo che avremmo avuto bisogno di eh ulteriore espansione perché abbiamo bisogno di essere più solidi sul mercato americano più eh più penetranti nel mercato americano e il e a sviluppare una raccolta di plasma maggiore per essere eh maggiormente garantiti eh sulle sulle carenze o sulle eventuali future carenze. Quindi noi abbiamo eh deciso che e pensiamo che il mondo eh si concentrerà ulteriormente. Il mercato eh leggero stamani un'analisi del settore che dice che il l'ottanta per cento del fabbisogno mondiale di plasma derivati eh è coperto da tre aziende. Il da tre aziende per cui il e il novantadue da quattro o il novanta da quattro per cui il questi sono dati importanti che ci dicono che noi dobbiamo consolidare e quindi il abbiamo deciso di comprare un'azienda in Inghilterra è un'azienda che eh stava andando sul mercato abbiamo eh l'abbiamo guardata è un'azienda che ci permette di eh un'integrazione quasi perfetta eh con una limitatissima eh sovrapposizione ehm e quindi abbiamo ci siamo decisi e determinati a a a voler fare questa acquisizione. E nel momento pandemico per noi era difficile eh riuscire a fare questa acquisizione per cui ancora una volta ci siamo guardati tra noi e abbiamo detto è una cosa che vogliamo fare perché riteniamo che questa è una cosa che garantisca un ulteriore sviluppo eh alla nostra azienda e alle nostre aree di di presenza eh oppure eh possiamo aspettare un paio d'anni per essere autosufficienti e magari eh fare la stessa cosa da soli. Abbiamo deciso che la dobbiamo fare ora perché ora è il momento di cogliere eh l'occasione di di prendere l'attimo e quindi eh ci siamo rivolti ancora una volta al mercato del private equity e abbiamo coinvolto un nuovo private equity. Ecco siete voi che chiamate i private equity di solito viene il contrario no? Che i fondi di private equity vanno vanno sul mercato nel momento in cui individuano un'azienda vedono che l'azienda è sana e solida fa affari e fa sviluppo e entrano tentano di entrare in società con quell'azienda. Qui addirittura siete voi che invece utilizzate questo veicolo ed è una è una cosa molto molto interessante. C'è una chiave di lettura da una prospettiva completamente diversa. Diciamo che il noi siamo nel settore il e parliamo con i private equity da tanto tempo per cui siamo ben conosciuti da loro e loro sono ben conosciuti da noi. Il per cui eh loro sono nel nostro settore eh generalmente interessati e il hanno avuto la attenzione e l'intelligenza di curare eh i rapporti eh i rapporti con noi. Eh e noi ehm devo dire eh abbiamo avuto o diciamo l'opportunità ci hanno dato il mondo finanziario e il nostro settore ci ha dato l'opportunità di poter coltivare relazioni con una serie di eh private equity di primaria importanza. Per cui mh non voglio essere arrogante dire che siamo noi che che chiamiamo il private equity ma certamente il eh certamente eh ehm ci siamo scelti. Diciamo che eh eh noi abbiamo scelto il private equity che eh eh che avremmo voluto il che in questo caso è un fondo inglese che si chiama Permira il eh e io credo che loro abbiano anche scelto noi ma eh sicuramente noi abbiamo scelto loro. Quanto è importante questo fondo nel nel quadro internazionale? Marcucci? Beh è un fondo primario il è un fondo che lavora che è basato in Inghilterra e che è basato che è ehm che lavora su tutto il globo eh ha investimenti che vanno dall'Australia agli Stati Uniti, la Cina eh nel mondo. Il ha una peculiarità importante che ehm ci dà il segno anche della della nostra evoluzione eh che non che forse non vediamo eh tutti i giorni ma il capo del fondo per il settore healthcare è una signora italiana il che ehm si chiama Silvia Oteri e che eh ha fatto una carriera di vent'anni nel nel fondo e nel private equity il e ha un un gruppo di management che ehm a cui partecipano moltissime persone internazionali. La dimensione del fondo che ha investito, lei sa che i fondi sono enti che gestiscono denaro il per conto terzi e il fondo che ha investito in in che che sta investendo in Cedrion eh e BPL che è la società inglese che noi acquisiremo il è un fondo credo da nove miliardi eh di euro e e il fondo succede e e noi siamo credo l'ultimo investimento che loro hanno fatto e perché hanno esaurito i fondi hanno stanno lanciando un nuovo fondo da eh non mi ricordo se sono quindici o diciotto miliardi di euro per cui sono dei fondi di importanza eh eh primaria eh hanno una una visibilità a livello mondiale eh la scelta che fanno eh la scelta che fanno eh la scelta che fanno eh eh e la decisione che prendono eh non è una decisione è una decisione basata su opportunità ponderata su opportunità di livello mondiale il e quindi noi siamo stati scelti come investimento ehm e noi abbiamo scelto loro e loro hanno scelto noi tra un numero infinito di possibilità di investimento che loro hanno e che vengono dal settore plasma dal settore farmaceutico dal settore tecnologico a livello mondiale quindi anche questo ci dovrebbe dovrebbe dire a noi eh a noi eh imprenditori a noi imprenditori Marcucci e eh miei due fratelli il che eh abbiamo fatto una cosa forse di una visibilità e di un'importanza relativa significativa e il il e dovrebbe dire anche alla eh all'Italia eh che eh anche questa è un'altra di quelle aziende che eh o è un altro no ha un'altra tecnologia un'altra ehm impresa che eh è radicata in Italia e che porta un 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 elemento strategico importante eh nel futuro del nostro paese. Ne farò poche domande da qui alla fine però saranno un po' più particolari. Perché nessun imprenditore italiano della sua allevatura in questo momento così difficile per il paese con tanti dubbi rispetto a chi lo rappresenta politicamente basta guardare quello che è sui giornali internazionali in questo momento non faccio né nomi né cognomi naturalmente perché nessun imprenditore capace di guardare al mercato capace di guardare alle cose da fare scende in politica e prende in mano questo paese o magari anche un gruppo di imprenditori. Ehm eh beh ora io non so la mia famiglia la mia famiglia la mia famiglia ad esempio. Beh diciamo la mia risposta semplice il potrebbe essere che ho un fratello che eh è senatore quindi lo fa lui e non lo faccio io ma questo lei lo sa io porto quindi il il chiaro che la sua domanda eh una una domanda provocatoria comunque io credo che il io credo. No però questo paese ha bisogno di gente come come voi per cui è importante in questo momento. Io lo io lo credo io lo credo io credo che eh il paese il il paese eh la difficoltà di scendere in politica sia rappresentata dalla eh dalla dalla politica in se stessa eh e dalle regole eh della e dalle regole di oggi della politica per cui è difficile eh è difficile eh per un imprenditore fare la scelta di eh muoversi in un settore eh cambiare eh attività e mh difficilmente poter tornare indietro. Poi mio fratello il è una persona che ha avuto una negazione per sia per la politica che per la eh azienda a a superiore eh e quindi lui è riuscito eh in qualche maniera a trovare un un bilanciamento. È all'interno di una famiglia che eh lo che lo ha aiutato come lui ha aiutato noi noi abbiamo aiutato lui però diciamo è difficile trovare una 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 persona che è disponibile a durare eh a fare questi sacrifici e prendersi certi rischi perché poi diciamo il la politica da visibilità il la politica da eh al conflitto di interesse e crea tutta una serie di cose. Lei non so se eh si può immaginare quanto o quanto o ci metto io a aprire un conto corrente a livello personale essendo una politica una persona politicamente esposta cioè il una radiografia completa quindi quello potrebbe essere un inizio un indizio. però è un è un momento in cui questo paese ha bisogno di di trarsi d'impaccio a certi ricatti anche europei no? Io non so se lei ha visto nel dettaglio il TPI ma chi si preoccupava del MES credo che impallidirà quando capirà la forza di questo ulteriore strumento finanziario. Eh però guardi eh dottore ehm se mi permette Leopoldo il è una cosa molto bella quella che dice e eh e mette in evidenza eh il fatto che noi italiani dobbiamo accettare di eh eh di fare parte di un mondo più grande. E dobbiamo. E quello che sta facendo con la sua impresa guardando ai fondi di private equity c'è un parallelismo molto forte in quello che dice. Esattamente guardi il il la ringrazio per averlo indicato il il noi dobbiamo avere il coraggio di saltare l'ostacolo di andare di là e di confrontarsi. Noi siamo bravi abbiamo una preparazione di base il imprenditoriale politica culturale eh spesso più elevata di paesi eh di 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 paesi di altri paesi internazionali. Quindi abbiamo se vogliamo un vantaggio competitivo abbiamo eh abbiamo bisogno di sviluppare la forza il coraggio la determinazione di andare oltre e di prendersi un rischio. Io credo che se riusciremo a prenderci quel rischio eh quello di diventare integrati in un paese più grande o in un paese eh eh un sistema più più grande noi saremo ancora più forti saremo sicuramente più forti e questo ci renderà a sostanzialmente ehm eh non voglio dire invincibili ma insomma il molto molto ci porterà un grande successo secondo me all'Italia al sistema Italia agli imprenditori agli uomini agli laboratori agli ingegneri ai tecnici ai professori eh e così perché io vedo che quando incontro una persona all'estero e che è italiana ha sempre spessissimo una posizione importante è sempre spesso molto eh molto apprezzata e importante non vuol dire che guadagna milioni vuol dire che all'interno dell'entità nella quale si trova ha una posizione rilevante il il e sulla quale gli altri basano o la crescita e e l'affidabilità per cui io sono molto incoraggiato da quello che trovo quando vado eh all'estero e vedo i nostri concittadini e lavorare là. Ecco è un momento importante ma eh parlavo qualche giorno fa con un nostro amico comune se così possiamo definirlo che Alan Friedman presentando in una in una serata il il suo libro Il prezzo del del futuro e mi ha detto una cosa interessantissima che trova interessantissima che trova riscontro anche in quello che è successo ieri pomeriggio dopo la notizia del 20% di riduzione ancora del del gas dei flussi di gas della Russia immediatamente l'Europa è stata capace in poche ore di uscire con un documento comune e lui diceva io io vedo un'Europa fra dieci anni eh migliore di quella che vediamo oggi in cui si starà bene perché hanno un'unica scelta da fare quella di mettersi insieme cosa che finora probabilmente ancora non è avvenuta però forse stando con le spalle al muro come dicevamo prima le scelte forti poi verranno fatte. Ma guardi eh io sono d'accordo con il con Alan con il nostro comune amico il il bisogna eh probabilmente l'Europa ha un meccanismo o meno avventuroso di quello meccanismo in termini avventuroso degli americani o di altri paesi nel mondo che oggi sono più importanti di noi o che ambiscono essere più importanti dell'Europa il il per cui noi invece che agire reagiamo invece che prendere l'azione essere proattivi eh diventiamo eh andiamo siamo per la reazione e quando reagiamo spesso e volentieri reagiamo il trovando un'innovazione ottenendo una una decisione una forza di coesione eh che eh che se trovata che si riuscisse a trovare prima quindi in funzione di uno sforzo proattivo il sarebbe una un elemento vincente e sarebbe un'arma determinante io credo che piano piano stiamo imparando che ci dobbiamo prendere dei rischi ce li possiamo prendere siamo in grado di gestirli il e il e questi rischi se queste sfide se vinte sono estremamente remunerative per noi quindi io credo che eh tra dieci anni avremo una saremmo una un paese migliore eh proprio in funzione di tutte le scelte che eh saremo costretti a fare ehm ehm non c'è scelta nelle scelte come non c'è scelta nelle scelte da fare siamo quasi obbligati a pensare a risistemare il debito pubblico a fare crescita a guardare alle aziende che funzionano come ha fatto Cdp per certi versi che è una costola finanziaria importante del nostro paese che ha deciso di investire su di voi come tra le di voi che ci ha già detto prima la ringrazio questo il eh allora eh non è che non c'è scelta tra le scelte secondo me c'è una eh ci sono delle scelte il che siamo obbligati a prendere quindi la l'opzioni le opzioni sono diverse il il ma il momento decisionale che è quello che ci che noi tendiamo a ritardare il più possibile per quello che riguarda e che piano piano il impareremo invece ad anticipare il per quello che riguarda invece Cdp Cdp è un diciamo mai un nostro compagno di viaggio di lungo termine eh inusuale per un private equity o per un investimento eh finanziario eh ci accompagna da duemiladodici ehm eh e quindi sono dieci anni che è con noi che ci frequentiamo e che ci conosciamo proprio in questi giorni scoccano i dieci anni e il eh e per noi siamo stati noi siamo stati uno dei loro primi investimenti nelle aziende private in Italia e il loro investimento a quel tempo era stato ehm motivato da da un lato un'esigenza nostra che era quella di eh comprare asset nell'opportunità di comprare asset negli Stati Uniti e e quindi volevano aiutare un'azienda ehm un'azienda italiana a crescere come poi hanno fatto con un certo numero di aziende eh sempre crescente più o meno grandi eh ma hanno investito virtuosamente in un numero di aziende crescenti eh che stanno diventando molte di queste aziende diventando importanti. Il secondo elemento per cui hanno scelto noi oltre all'opportunità il c'era c'era anche il ruolo che noi usiamo che noi svolgiamo nel nel panorama eh farmaceutico e nel panorama del sistema sanitario nazionale perché noi lavoriamo oggi una buona parte eh quindi circa la metà ma una volta lavoravamo tutto il plasma eh raccolto a livello nazionale e il credo che CDP nell'investimento abbia messo il il abbia messo un elemento importante che è quella la visione strategica bisogna che è quello a cui mi riferivo prima cioè noi bisogna eh avere salvaguardare e mantenere un'azienda di questo genere in Italia perché è un'azienda eh è un'azienda che il eh che è strategica che da che crea un prodotto che lavora un prodotto particolare biologico donato da donatori anche italiani per l'Italia in particolare italiani il il ma che eh eh e che lo trasforma in un eh bene di eh primaria necessità il che eh ha un impatto fondamentale sulla qualità della vita o sulla vita stessa dei pazienti eh affetti da eh carenze di eh proteine o carenze di eh proteine prasmatiche per cui il loro hanno dato un significato di visione di lungo termine di di e di strategia eh e di valenza strategica al al loro investimento e e io ritengo che eh questa cosa mh questa scelta sia ancora più virtuosa perché nel momento in cui abbiamo fatto l'accordo con con Permira per comprare BPL Permira il tecnicamente comprerà il eh tutti gli azionisti e e gli azionisti chi vuole eh o chi eh o chi eh avesse voluto avrebbe potuto reinvestire e quindi eh CDP eh incasserà la eh incasserà dalla vendita eh porterà a casa un un discreto ritorno un importante ritorno e nonostante abbia eh eh portato a casa un discreto ritorno il ha deciso di reinvestire nella nuova società una eh una parte di questi eh proventi per continuare a svolgere un ruolo eh di eh stabilità di supporto all'impresa di supporto agli imprenditori il il nello sviluppo futuro dell'azienda e questa lei rappresenta un po' una sorta di gallina dalle uova d'oro per CDP no? Cioè sappiamo quanto poi CDP rappresenta un elemento di di stabilità anche per il il paese perché è un po' il il tesoretto di Casa Italia stiamo parlando di cassa depositi e prestiti per chi è meno avvezzo agli acronimi che che ha la base un pochino di tutto il risparmio postale quindi c'è da stare molto attenti negli investimenti e quindi si sta eh si va alla ricerca delle delle uova d'oro di cui parlavo prima. Sì no indubbiamente allora no noi non siamo la gallina delle uova d'oro il il non per non per parlare del fatto che voi siate anche perché i polli non si trovano più in giro nel senso che nelle Filippine stanno sparendo stanno dei nel nel McDonald stanno sparendo per cui diventa ancora mi concedo la battuta Parcucci diventa ancora più importante. Lei fa il parallelo con l'industria biologica quindi ci rappresenta ci ci parla di galline il il e di uova no il il io credo che ehm eh io credo che ehm le persone di cassa depositi e prestiti eh che sono persone preparatissime che vengono vengono da esperienze eh di investimento nel mondo della finanza nel mondo dell'industria ehm e quindi eh sono coloro che sono preposti a selezionare investimenti vengono eh sono persone di un altissimo profilo il di un'altissima professionalità il hanno visto nell'azienda un eh elemento o di redditività e quindi hanno investito in funzione della capacità di reddito che l'azienda avrebbe che che rappresentava in quel momento e che poi ha eh dimostrato e ha realizzato e e e poi dall'altro lato hanno investito anche perché il perché questo è un settore particolare perché questo è un settore che va salvaguardato va sviluppato ehm va sviluppato e va coltivato eh possibilmente il possibilmente preservandone eh una parte in Italia per avere la garanzia che tutti gli investimenti e che si faranno avranno anche come opzione l'Italia che è il nostro paese d'origine quindi il il credo che eh CDP abbia tre fronti eh di interesse eh eh portando avanti quel ruolo di stabilità eh eh e di eh e di investimento proficuo eh del del denaro degli italiani eh che sono appunto eh da un lato la redditività e la qualità dell'azienda dall'altro lato il eh il preservare eh e garantire ulteriori investimenti in Italia eh in particolare tecnologicamente avanzati sofisticati eh con impiego di 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 mano d'opera italiana di alto profilo e il terzo punto da non sottovalutare è l'aspetto strategico e la visione strategica eh per il ruolo che questa azienda e per il eh e questo settore rappresenta per l'Italia. Marcucci ci avevamo dati i venti trenta minuti siamo a un'ora di registrazione evidentemente le cose che ci stiamo raccontando hanno trovato reciproca curiosità però per chiudere io le lascio un minuto ipotizzando che lei sia il capo dello Stato. Il capo di uno Stato fatto da imprenditori e uomini nuovi ecco che cosa si sente di dire dall'alto della sua esperienza a tutti gli altri? Guardi io dico due cose eh io dico due cose ehm eh uno è eh che bisogna essere più snelli e quindi bisogna riuscire a rendere lo Stato un un ente più snello e e la seconda cosa che dico è che bisogna essere più grandi il quando io sono andato negli Stati Uniti e eh e ho cominciato a lavorare negli Stati Uniti con l'azienda farmaceutica italiana mi sono reso conto che ehm eh venivo da un paese l'Europa il che nella realtà non era un non è un paese il non è un paese unico per raggiungere ehm negli Stati Uniti per raggiungere quattrocento milioni di possibili pazienti o di possibili utenti eh facciamo una pratica e raggiungiamo un mercato da quattrocento milioni di eh di pazienti o dico customers di clienti di possibili di comunque persone che spendono mentre invece in in Europa per raggiungere quattrocento milioni di utenti noi dobbiamo fare eh ventisette pratiche diverse eh con una burocrazia eh alle volte eh intollerabile eh estremamente eh cavillosa e eh e non sempre riusciamo ad arrivare a quattrocento milioni di possibili eh possibili clienti allora noi non fino a che non l'ho toccato non l'ho toccato con mano non mi sono reso conto ma il la necessità di rendere meno burocratico il nostro paese e forse anche l'Europa e di renderlo più grande in termini di eh eh di mercato raggiungibile sono due elementi fondamentali che io metterei eh sicuramente come primo o come primo o obiettivo come i primi due obiettivi di una possibile eh di un innovazione italiana. Sì di un innovamento di un'innovazione italiana. Vede che lei sa dove mettere le mani? La ringrazio per essere stato con noi per questa intervista anche simpaticamente eh punzecchiato tra virgolette però grazie perché comunque ci ha raccontato una bella storia italiana che è una storia italiana non più solo italiana perché come lei diceva giustamente bisogna allargare la visione e diventare più grandi e per diventare più grandi con quell'ottanta per cento di esportazione di cui parlava lei rispetto al passato le imprese italiane che funzionano sono quelle che hanno nell'esportazione la dimensione all'incirca che sta dicendo lei se non più grande e ce ne sono tante veramente straordinarie che meriterebbero attenzioni politiche burocratiche diverse questo lo dico io e me ne assumo tutta la responsabilità arrivederci e grazie per essere stato un piacere grazie a tutti